come va? ti senti energico? eccoci qua purtroppo c'è stato un piccolo inconveniente eravamo tutti pronti per farvi vedere il pantalone nuovo della fox il flex air l'alfa quello invernale che ha tutta la parte interna della parte anteriore polartec non siamo riusciti perché gopro non ha praticamente registrato nulla non ha registrato la gopro come dicevo quindi la recensione non è venuta e abbiamo solamente i video dalla telecamera di pierfrancesco mettiamo su un video giusto per far vedere il giro di domenica e vi preannuncio che rifaremo la recensione su questo pantalone che abbiamo provato è comodissimo morbidissimo come non averlo solamente che gli inserti in polartec tengono caldo il muscolo anteriore e sono messi solamente lì davanti quindi il pantalone rimane leggerissimo riuscirà un video action della yeti che è venuto benissimo e probabilmente in settimana lo tireremo fuori con qualche post sui social bene buona visione iscrivetevi e alla prossima ciao bene l'ho presa in pieno fratelli si si questo troppalo bello bello stiloso bello papi ma hai visto che non c'è la big papis sciocchi no c'è l'ho presa in pieno un belato Grazie a tutti. 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 No, sbagliato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.